E ora parliamo di Orienteering in sella a una bici perché è Trentino il nuovo campione italiano. Ce lo presenta Gianfranco Benincasa. Il Trentino Luca Dallavalle, Groundlight Team, è il nuovo campione italiano di mountain bike Orienteering. Il Solandro, già iridato nella specialità, ha conquistato il titolo tricolore nei boschi di San Zenone a cavallo tra il Vicentino e il Trevigiano. Era una gara molto dura sia fisicamente che anche tecnicamente. Ho sbagliato diversi punti però nel complesso stavo bene e quindi sulla long è venuto fuori il ritmo e ho fatto una bella gara. Alle sue spalle si è piazzato il primo erotto del GS Pavione Fabiano Bettiga. È stata una gara dura con 25 punti e con salite piuttosto impegnative a causa del fondo stradale, reso pesante dalle piogge scese abbondanti nei giorni precedenti la gara. Al femminile successo per la giovanissima friulana Iris Pecorari. Nella fine settimana l'Orienteering tornerà in Trentino per la precisione in Valsugana e Alto Piano della Vigolana, dove è tutto pronto per la due giorni nata dalla collaborazione tra l'Orienteering Pergine e la SD Crea Rossa che daranno vita alla terza prova di Coppa Italia sabato a Pergine e al campionato italiano middle domenica a Vattaro.